Bisogna solo parlarsi e trovare l'intesa giusta, il resto lo vedremo. Serve tanta attenzione per il bene del Paese. Non è viminale o morte? No, ma assolutamente questo, ragazzi, assolutamente no. Il problema è trovare una quadra, perché ogni volta che si fa un governo non è solo una persona, ma ci sono tante persone. E bisogna fare un governo con le persone migliori in questo determinato momento storico, che è un momento molto difficile per l'Italia. E quindi bisogna che sia un governo compatto, unito, con le persone che lavorano nel migliore dei mondi. Penso che poi a volte siano più rancori personali, è una questione politica. Maroni, cioè per fare i nomi. Sì, ma sa, ognuno, poi stiamo parlando di persone che comunque hanno avuto ruoli importanti e dirigenziali. Bisogna guardare i risultati che ci sono stati allora, i risultati che ci sono stati poi, e poi fare un'analisi del voto seria, con calma, vedere effettivamente le cose.